React Server Components, cosa sono, cosa fanno, qual è la differenza con i paradigmi precedenti? Allora, siccome sto preparando un talk per Voxed Days, un evento che si tiene a Trieste il 30 maggio, eccolo qua, questo è il sito Voxed Days Trieste, e insomma, se ci siete, magari, se siete nei paraggi, ecco, volete fare una gitarella a Trieste il 30 maggio, potrebbe essere un evento che vi interessa. Vedete, For Developers by Developers è Voxed, la conferenza, eccolo qua, la line-up degli speaker, con anche il mio faccione, qua ben presente, il, come vedete, il mio talk è proprio sui React Server Components. Quindi, per creare una presentazione che sia interessante per il pubblico, sto raccogliendo un po' del materiale, sto leggendo un po' di roba, e naturalmente mi sono imbattuto nell'articolo che viene citato più spesso quando si parla proprio di React Server Components, che è l'articolo di Josh Comeau, che è Making Sense of React Server Components. Naturalmente Josh è un'autorità nel mondo, quando si parla di articoli tecnici sul front-end, gli articoli di Josh sono sicuramente tra i più ben scritti, ben fatti, sono anche molto curati a livello estetico di UI e UX, quindi sicuramente farà piacere a tutti quelli che sono interessati a React, seguire un po' questo articolo, ma anche potrebbe essere che vi possa piacere, anche se non siete proprio addentro alle meccaniche e attorno al mondo di React. Comunque, oggi parliamo di React Server Components, che è un nuovo paradigma, quantomeno è un nuovo paradigma per React. Ci sono già stati dei Server Components in framework, come su React, come Remix e Next.js, però qui si parla proprio di React, che introduce un proprio modo, slegato dalle implementazioni come Next, appunto, di Server Components, quindi stiamo parlando di un componente e una modalità, un paradigma ufficiale React per i Server Components, che però è già inserito, già stato utilizzato dai maggiori framework, appunto, tant'è che anche React stesso, ufficialmente, vi dice che il modo migliore per provare i Server Components è proprio quello di utilizzare un framework basato su React, come appunto Next.js. Perché? Perché per testare, per utilizzare i React Server Components non basta semplicemente creare il progetto e lanciare i node, insomma, lanciare il builder, ma serve un po' una serie di configurazioni che Next.js vi dà già, diciamo, out of the box. E quindi il modo più semplice per testare i Server Components è proprio quello di utilizzare un framework come Next. Questo un po' come premessa. Naturalmente React Server Components è un paradigma che si distanzia un po' dagli altri paradigmi server-side, di rendering server-side di JavaScript, come per esempio il server-side rendering, e anche di questo parla questo articolo. Quindi ci sarà una parte, insomma, introduttiva in cui si parla un po' di server-side rendering e della differenza con, invece, i server-components, che sono un approccio diverso, e poi andiamo a vedere invece che cosa fanno i server-components, come sono scritti, come funzionano, quali vantaggi ci portano, eccetera. Insomma, non so perché ho fatto un cappello così lungo, ma, insomma, questo per dirvi che andiamo a leggere questo articolo. Quindi partiamo con Josh che ti dice che React quest'anno celebra il decimo compleanno. Quindi si sente vecchio, insomma, perché React ha dieci anni, e va bene. Quindi nel decennio da che React è stato introdotto nella selvaggia dev community è passato attraverso molte evoluzioni. Il team di React non si è tirato indietro quando si è trattato di fare cambiamenti radicali. Se trovano una soluzione migliore a un problema, ecco che vanno subito con quella. Questo bisogna assolutamente dannare atto. React è passato attraverso vari cambiamenti e anche abbastanza radicali. Dunque, un paio di mesi fa, qui stiamo parlando di un articolo di marzo, quindi questa è un'introduzione fatta all'inizio dell'anno, il team di React ha mostrato al mondo per la prima volta i React Server Components, che è l'ultimo paradigma, l'ultimo nuovo paradigma di React. Per la prima volta, in assoluto, i componenti React possono girare interamente, esclusivamente, su server. Quindi, attenzione, qui girano esclusivamente su server. Questa è la differenza con i paradigmi precedenti. Ora, c'è stata così tanta confusione, dice Josh, su questa roba online. Molte persone hanno un sacco di domande, come funziona, quali sono i suoi benefici e come si inserisce nel paradigma del server-side rendering. Quindi, io ho fatto un sacco di esperimenti con i React Server Components e ho risposto a un sacco delle domande che avevo anch'io. E devo ammettere, sono molto più esaltato, riguardo a questa roba qua, di quello che mi aspettavo. È davvero figo. Quindi, il mio obiettivo di oggi è di aiutarti a demistificare questa roba e rispondere a un sacco di domande che puoi avere a proposito proprio di React Server Component. Quindi ci dice, ecco un'introduzione a server-side rendering. Quindi partiamo con il server-side rendering. Per questo poi ci serve per capire le differenze che introduce appunto questo nuovo paradigma RSC. Quindi, per mettere il React Server Component nel contesto è d'aiuto a capire come funziona il server-side rendering, quindi SSR. Se sei già familiare con SSR, schippa naturalmente al prossimo paragrafo, va bene. Ma noi invece lo prendiamo perché ci serve poi anche, mi servirà poi anche per creare il talk. Allora, quando ho iniziato per la prima volta a usare React nel 2015, molti dei setup, dei getting started, quindi di React, usavano una rendering strategy client-side. Quindi l'utente riceveva l'html, l'utente nel senso il browser, naturalmente riceveva un file html che era fatto in questo modo qua. C'è un classico documento html con un div, con id root e poi l'inclusione di uno script con bundle.js. Questo era React di fatto, cioè questo documento html viene fecciato e caricato dal browser che interpreta tutto l'html, dopo di che trova un bundle.js, lo esegue ed ecco che qui si esegue React di fatto, cioè React va a inserirsi all'interno del div con id root dell'html. Quindi tutto questo processo di rendering che trasforma questo div di root in un'applicazione dinamica, avviene lato client, quindi questo è client-side rendering. E dice poi Josh, lo script bundle.js include tutto quello che abbiamo bisogno per montare e far girare l'applicazione, incluse React, le dipendenze di terze parti e tutto il codice che abbiamo scritto. Sta tutto dentro il bundle, che è esattamente stato compilato server-side. Una volta che il JavaScript viene scaricato e parsato, perché naturalmente fa tutto letto dal browser, ecco che React entra in azione, mette insieme tutti i nodi DOM dell'intera applicazione e li inserisce all'interno di div id root, che è la root proprio della app. Il problema con questo approccio è che prende un sacco di tempo per funzionare e mentre sta succedendo, l'utente guarda uno schermo bianco, un blank white screen. Certo, perché mentre il browser sta parsando tutto il JavaScript e poi eseguendo il JavaScript che si preoccupa di creare gli elementi nel DOM, ecco che quello che vedi è un documento bianco, non c'è niente. Quindi questo problema è diventato anche peggio nel tempo, perché quando noi aggiungevamo nuove feature e quindi anche nuove dipendenze al nostro bundle JavaScript, ecco che questo diventava sempre più grande e quindi ha prolungato il tempo di attesa che l'utente doveva aspettare per vedere poi l'app renderizzata. Quindi è arrivato il server-side rendering, che è stato creato come paradigma per rispondere, per migliorare la user experience, quindi rispondere a questa esigenza. Invece di mandare un file HTML vuoto, quindi senza gli elementi dell'app, il server renderizza l'applicazione per generare l'HTML reale. L'utente riceve un documento HTML completamente formato. Questo file HTML include comunque il tag script, perché abbiamo ancora bisogno che React venga eseguito sul client per naturalmente gestire tutta l'interattività, ma configuriamo React per funzionare un pochino differente dentro il browser. Invece di collegare tutti i DOM node, quindi invece di creare tutti i nodi DOM from scratch da zero, adotta l'HTML esistente, che è il processo che è noto come hydration. L'hydration qui viene spiegato da Dan Abramov, che è membro core di React, con questa frase. Hydration è come innaffiare l'HTML secco con l'acqua dell'interattività e degli event handler. Quindi in pratica l'HTML è il vostro documento secco, scarno, privo di interattività e di eventi, e quindi l'hydration è il processo con cui voi aggiungete all'HTML l'interattività e altri gestori di eventi. Questa è la definizione giusta del server side rendering, quindi il browser riceve un HTML che è pre-renderizzato, perché è stato renderizzato lato server, e una volta che l'ha ricevuto, resegue comunque il JavaScript che è compreso nel bundle per inserire altri elementi di interattività all'interno della pagina. Quindi avete renderizzato le cose più pesanti e una struttura del documento lato server, però poi lato client bisogna rigirare il rendering per far avere interattività alla pagina. Josh credo che vi dica la stessa cosa che ho detto io, quindi una volta che il bundle JavaScript viene scaricato dal browser, React va a fare un giro riparsa tutta l'intera applicazione, crea uno sketch virtuale della UI e lo inserisce all'interno del DOM reale, attaccandoci gli event handler, facendo eseguire tutti gli effetti, eccetera. E quindi è quello che fa React con il suo virtual DOM, cioè collega il DOM reale dell'HTML con il virtual DOM, che è la sua rappresentazione del DOM, che poi gli serve per gestire gli eventi, l'interattività, eccetera. Quindi questo è SSR, banalmente. Il server genera l'HTML iniziale, così che l'utente non deve stare ad aspettare una pagina bianca, vuota, mentre il bundle JS viene scaricato e parsato. Il React client side riprende da dove il React server side aveva lasciato, adottando l'HTML, scusate, il DOM risultante, e poi aggiungendoci l'interattività. Poi c'è questo box, che dice che parla di umbrella term, quindi un termine ombrello. Quando parliamo di server side rendering, tipicamente ci immaginiamo un flow che sembra così. L'utente visita mywebsite.com, un server no JS riceve la richiesta, renderizza immediatamente l'applicazione React, e genera l'HTML. A quel punto questo HTML sfornato di fresco viene mandato al client. Ma questa, dice poi il box, questa è una dei possibili modi per implementare il server side rendering, non è l'unico. Un'altra opzione è generare l'HTML al momento della build, quindi quando noi stiamo buildando l'applicazione. Tipicamente le applicazioni React devono essere compilate, trasformando il JSX nel caro vecchio JavaScript, e poi facendo il bundling di tutti i moduli. Ma cosa succede se durante questo processo noi pre-renderizziamo anche tutto l'HTML per tutte le nostre rotte, per tutte le rotte dell'applicazione? Ecco, questo processo tipicamente è conosciuto come SSG, quindi Static Site Generation, che è una variante del server side rendering. Dice, per come la vedo io, il server side rendering è un termine ombrello che include diverse strategie di rendering. Tutte hanno una cosa in comune. Il render iniziale avviene lato server con dei runtime come Node.js utilizzando l'API React Dome Server, che naturalmente deve essere diversa dall'API del client, altrimenti non avendo le primitive del web sul browser, sul server, non funzionerebbe, si romperebbe la build lato server. Quindi non importa quando questo avviene, sia che sia on demand, cioè quando il server riceve la richiesta, oppure in compile time, quindi quando l'API viene compilata, buildata. In ogni caso è server side rendering. Quindi c'è questa piccola differenza tra Static e SSR. Ma va bene, quindi abbiamo capito, l'SSR è un rendering della pagina che avviene lato server, poi dopo il client riprende a renderizzare tutti gli elementi dinamici che il server non ha potuto renderizzare. Parliamo, dice in un nuovo capitolo di questo post, bouncing back and forth, parliamo di data fetching in React. Tipicamente abbiamo due applicazioni separate che comunicano via network, una React App client side e una REST API server side. Utilizzando qualcosa tipo React Query, una libreria molto popolare per React, per fare appunto chiamate alle API, oppure SWR o Apollo, insomma altri client, per fare chiamate HTTP, quindi il client fa una network request al backend, a quel punto il backend prende i dati da un database per esempio e li rimanda via network. Quindi possiamo visualizzare questo flow utilizzando un grafico. Quindi vedete il punto di ingresso è il server, ma poi il lavoro di scaricare il JavaScript, renderizzare la prima shell, quindi la prima parte dell'applicazione, è un lavoro che fa il client. A quel punto il client fa una richiesta di nuovo al server, si arriva al server che fa una query sul database, a quel punto quei dati vengono rimandati al client che renderizza il contenuto. Il primo grafico ci mostra il flow dell'uso di client side rendering, quindi CSR, che è quello che avviene normalmente senza l'intervento del server. Quindi inizia con il client che riceve l'HTML file dal server, l'abbiamo visto, quindi qua il server parte con la richiesta, lato client, quindi lato browser, riceviamo il nostro HTML con il nostro JavaScript. Questo file non ha nessun contenuto, ma ha uno script tag. Una volta che il JavaScript è stato scaricato e parsato dal browser, l'app React fa il boot, crea una serie di nodi DOM e poi popula la UI. All'inizio non abbiamo i dati, non abbiamo nessun dato, possiamo soltanto renderizzare il guscio, quindi la shell, quindi header, footer, il layout in generale, con uno stato di loading. E probabilmente questo pattern l'avete visto molte volte, per esempio Uber Eats, quello qua inizia a renderizzare il guscio, mentre fa il fetch dei dati che servono poi per popolare i ristoranti. Vedete qua, la tipica scremata di loading, insomma di caricamento, mentre i dati sono ancora in processing lato server. Quindi l'utente vedrà questo stato di loading, fino a che la network request risolve e allora React rirenderizza, rimpiazzando il loading della UI con il vero contenuto. Pensiamo a un altro modo con cui possiamo architettare questo tipo di applicazione. Quindi nel prossimo grafico vediamo lo stesso pattern di data fetching, ma con server side rendering invece di client side rendering. Quindi si parte sempre dal server che però inizialmente renderizza la shell, quindi la prima parte, questa prima parte di contenuto, viene renderizzata lato server. Il client si riscarica sempre la pagina, quindi arriva l'HTML con il JavaScript dentro la pagina. A questo punto c'è questo processo di hydrate, quindi di hydration. Quindi il JavaScript che viene eseguito nel browser inserisce e crea nuovi elementi sulla pagina arricchendo, quindi idratando la pagina, la shell HTML che è stata inizialmente ricevuta. Dopodiché si ritorna con la query database sul server che poi rimanda i dati al client che renderizza i contenuti. Quindi c'è questa parte in più di renderizzazione lato server che qua sostituiamo la parte di renderizzazione della shell che eravamo lato client con la parte di hydration. Però vedete che più o meno il resto rimane uguale. Quindi dici in questo nuovo flow il primo render viene eseguito sul server. Questo significa che l'utente riceve un file HTML che non è totalmente vuoto. E questo è un improvement, perché avere qualcosa, avere un guscio, una shell, è migliore che avere una pagina bianca vuota. Però alla fine non ci sposta significativamente in avanti. L'utente non sta visitando la nostra app per vedere una schermata di loading. Vuole vedere contenuti reali, nel caso di Uber, dei ristoranti, degli hotel, eccetera. Quindi per dare un senso a queste differenze nelle user experience vediamo un po' di metric, di web performance metric ai nostri grafici. Quindi vedete questo grafico che è interattivo, ci fa vedere la differenza tra client-side rendering e server-side rendering. Vedete che quello che cambia è che spostiamo la parte di rendering dal client al server, come dicevo. Vedete che non cambia molto a livello generale, ma c'è questa differenza. Cioè il first paint nel client-side rendering è messo allo stesso punto di quando la pagina diventa interattiva. Quindi l'utente non vede niente fino a che c'è la pagina interattiva. Mentre nel server-side rendering avviene molto prima. Quindi qui, in questo punto, quando usiamo il server-side rendering, l'utente inizia già a vedere qualcosa. E questo è un improvement, perché quantomeno vediamo qualcosa. Ecco, dice poi l'articolo, ognuno di questi flag rappresenta una web performance metric. Quindi c'è il first paint, quindi l'utente non sta più guardando uno schermo bianco, ma sta vedendo un layout generale che viene renderizzato. Il contenuto è mancante e questa metric viene chiamata first contentful paint, fcp. Poi c'è page interactive, in cui React è stato scaricato, la nostra applicazione è stata renderizzata e idratata, e quindi gli elementi interattivi ora sono responsive. E questa è la metrica che viene chiamata time to interactive, TTI. E poi c'è content paint. La pagina include tutte le cose che stava cercando l'utente, quindi i dati che vengono presi dal server. Questi dati vengono presi dal database, renderizzati nella UI. Questa metrica è chiamata LCP, largest contentful paint. Ora facendo il render iniziale sul server, siamo in grado di prendere questo guscio, di avere questo guscio renderizzato molto più velocemente. E questo rende l'esperienza utente un pochino più veloce, o quanto meno dà la sensazione di essere un pochino più veloce, perché ti dà l'idea di un senso di progressione, cose che stiano succedendo. E in alcune situazioni questo è davvero un improvement significativo. Per esempio, ci possono essere situazioni in cui l'utente sta aspettando che l'header si carichi, così può cliccare su un link di navigazione. Ma non sembra un po' stupido questo flow? Quando guardo al grafico SSR, dice Josh, non posso fare a meno di notare che la richiesta inizia sul server. Invece di richiedere un secondo round trip, quindi una seconda network request che va avanti e indietro, perché non facciamo lavorare il database durante la richiesta iniziale? In altre parole, perché non facciamo qualcosa tipo questo? Quindi vedete, nel primo momento in cui c'è il server che renderizza l'app, quindi con il server side rendering, c'è anche la query al database. Quindi invece di fare back and forth tra client e server, facciamo la nostra query database come parte della richiesta iniziale. e poi mandiamo la UI totalmente popolata, quindi anche con i dati, all'utente. Come facciamo a fare questo esattamente? Quindi per fare questo abbiamo bisogno di dare a React un po' di codice che funzioni esclusivamente sul server per fare la query al database. Ma questo non si può fare con React, almeno non si poteva fare anche con il server side rendering, perché tutti i componenti venivano renderizzati sia sul server che sul client. Quindi ricordate, server side rendering viene fatto un rendering iniziale sul server, ma poi viene rirenderizzato sul client. L'ecosistema intorno a React ha proposto varie soluzioni a questo problema. Ci sono i meta framework di cui parlavamo prima, come Next.js o Gatsby, che hanno creato il loro modulo, la loro modalità per far girare codice esclusivamente sul server. Per esempio, questa è una pagina che è stata scritta in Next.js utilizzando il vecchio Pages router. Eccolo qua. Quindi qui c'è GatserverSideProps. Chi è familiare con Next.js ricorderà sicuramente questo paradigma. Quindi avete GatserverSideProps. Questo pezzo di codice viene eseguito esclusivamente sul server e avete il vostro componente lato client che include appunto i dati che vengono poi invece fecciati dal server e quindi poi resi disponibili al bundle che viene mandato al browser. Facciamo un breakdown di questo codice. Quando il server riceve una richiesta, viene eseguita la funzione GatserverSideProps, che è questa qua. Ritorna un oggetto props. Quindi vedete che ritorna props con dentro i nostri dati presi dal database. Queste proprietà sono incanalate all'interno del componente, quindi poi vengono passate alla componente, che è renderizzata per la prima volta sul server e poi idratato sul client. La cosa intelligente qui è che GatserverSideProps non viene rerunnata, quindi non viene girata una seconda volta sul client. Infatti questa funzione non è nemmeno inclusa nel bundle JavaScript. Questo è molto importante, lo vedremo dopo meglio con i server components. Quindi questo approccio era molto avanti per il proprio tempo e era abbastanza figo. Era grande, era un grande approccio, ma ci sono alcuni punti negativi. Per esempio questa strategia funziona soltanto a livello di route per i componenti all'inizio del tree, dell'albero, quindi componenti che rispondono alle rotte. Non possiamo farlo in qualunque componente. Poi ogni meta framework è venuto fuori con il proprio approccio, quindi Next.js aveva un approccio, Gatsby ha un altro approccio, Remix ha un altro approccio ancora, quindi non è standardizzato. Ora, il terzo punto negativo è che tutti i nostri componenti React faranno sempre la hydration sul client, anche quando non c'è bisogno di farlo, quindi l'annoso problema dei re-render, dei componenti React. Quindi per anni il team di React ha pensato come risolvere questo problema cercando un modo ufficiale, per mettere tutti d'accordo. La soluzione che finalmente andiamo ad affrontare è React Server Components. Quindi andiamo direttamente a fare l'introduzione ai React Server Components. A dato livello, React Server Components è il nome per un paradigma totalmente nuovo. In questo nuovo mondo possiamo creare componenti che vengono eseguiti esclusivamente sul server. Sottolineo di nuovo la parola, esclusivamente. E quindi questo ci consente di fare cose come scrivere query per il database direttamente all'interno di componenti React. Ecco un rapido esempio di Server Component. Vedete qua, c'è un componente che a parte che inizia con la keyword async, che è strano per un componente React, e vedete che ha subito un dbconnect. Adesso prendiamo un immaginario database con un immaginario API, quindi vediamo un dbconnect con una query, una query in SQL, quindi select all from products, e questi dati poi vengono messi direttamente nel nostro HTML, nell'HTML che poi viene mandato al client. Dice Josh, io per una persona che ha usato React per molti anni, questo codice sembra assolutamente pazzesco, ma aspetta un momento, dice il mio istinto. I function component non possono essere asincroni, sai che è quello che dicevo, no? Con async. E non possiamo avere dei side effect direttamente nel render, come questo, no? Side effect, quindi a connessione al database. Ma, dice, la parola chiave, la chiave per capire tutto questo, è che i server component non rirenderizzano. Questi vengono renderizzati, questi girano soltanto una volta sul server, per generare la UI. A questo punto il valore renderizzato viene spedito al client e rimane così, frizzato, non cambia mai. E per quanto concerne React, questo output è immutabile. Quindi qua cosa succede? Succede che questo componente è in pratica un generatore di template statico. Quindi lui esegue questo codice, prende tutti i dati, che sono poi dati derivanti da una query database, quindi dati testuali, insomma tutto questo codice viene inserito all'interno dell'html, questo html viene serializzato ed entra a far parte di un bundle che poi viene spedito al client. Quindi quello che riceve il client è la serializzazione di tutto questo html. Per il client a quel punto non è più un componente React dinamico da rirenderizzare, ma è semplicemente DOM serializzato che il browser non deve fra l'altro che leggere e renderizzare e appunto stampare sulla sua pagina. Se avete familiarità con altri linguaggi server-side come PHP per esempio, ecco questo non è altro che un template PHP riscritto in React. Perché di fatto se voi usate un twig, per esempio, PHP template, per tornare ancora più indietro nel tempo, ecco voi scrivate esattamente questo, cioè prendevate dei dati da file o da un database o da quello che vi pare, li inserite all'interno, li inserivate all'interno di HTML, o lo fate ancora se state utilizzando PHP con dei template, e a quel punto quell'Html generato lato server viene serializzato e spedito al client. È esattamente quello che succede in questo caso. Quindi React qua sta prendendo del HTML statico, naturalmente renderizzato e serializzato, e lo sta mandando al client. Questo componente non viene più rieseguito. Una volta eseguito sul server e ottenuto il risultato testuale, HTML naturalmente, viene spedito al client e basta. Questi dati, non vengono, questo codice anche, non fa parte del bundle. Quindi potete metterci le password, per esempio, non fatelo lo stesso, ma potreste metterci delle password, queste password, questi testi comunque scritti qua, questa query anche, non viene spedita al client, non c'è pericolo di SQL injection. Questo SQL è eseguito, è scritto esclusivamente su codice server side. Ancora, se siete familiari con tecnologie server side, come appunto PHP o Rails, o quello che vi pare, è esattamente la stessa cosa. Qui sta succedendo la stessa cosa. Quindi proseguo con l'articolo. Questo significa che parecchie delle React API, che sono naturalmente React, che sono naturalmente API client side, non sono compatibili con i server component. Non possiamo usare state, perché lo state può cambiare, ma i server component non possono rirenderizzare. Non possiamo usare gli effect, perché gli effect vengono eseguiti soltanto dopo il render, sul client, ma i server component non arrivano mai al client. Questo significa anche che siamo molto più flessibili, siamo un pochino più flessibili, per quanto riguarda le regole. Per esempio, nel React tradizionale, dobbiamo mettere i side effect all'interno appunto di un hook use effect, di una callback use effect, oppure qualcosa tipo un event handler, così che non vengono ripetuti a ogni render del componente. E sapete che il render dei componenti in React è qualcosa che avviene spesso per la natura stessa in cui è stato concepito React, no? Bene, in questo caso il componente viene eseguito soltanto una volta. Quindi non abbiamo bisogno di preoccuparci di dove mettiamo quel codice in modo che non venga rieseguito. No, il codice è top down e quindi possiamo mettere anche side effect all'interno della scrittura del nostro componente, top down come normale, insomma paradigma di programmazione server side. Quindi i server component sono piuttosto semplici in realtà, ma il paradigma React server component è molto più complesso. E questo perché abbiamo ancora i vecchi, i vecchi componenti regolari, quindi i vecchi componenti lato client e il modo in cui si mischiano tra di loro può creare un po' di confusione. In questo nuovo paradigma i componenti tradizionali di React sono chiamati client component. Dice Josh, sono onesto, non mi piace questo nome, insomma non mi piace il nome client component. Quindi praticamente i normali componenti React hanno un nome specifico che è client component proprio per differenziarli dai server component. Quindi il nome client component implica che questi componenti renderizzano solamente sul client, però non è del tutto vero. I client component possono renderizzare sia sul client che sul server. Quindi vedete questa tabellina con server component e client component renderizzano sul server, sì per entrambi, sul client sì soltanto per client component. Insomma, lo so, dice Josh, che questa terminologia può creare un po' di confusione, quindi ecco come la riassumerei. React server component è il nome del nuovo paradigma. In questo nuovo paradigma i componenti standard di React che noi conosciamo e amiamo sono stati ribrendizzati come client component, quindi è un nuovo nome per una vecchia cosa. Il nuovo paradigma introduce un nuovo tipo di componente, il server component. Questi nuovi componenti renderizzano esclusivamente sul server. Il codice non viene incluso, quindi il codice dei server component non viene incluso nei bundle JS e quindi naturalmente non hanno bisogno di hydration e non hanno bisogno di re-rendering. C'è un box che si intitola React server component versus server side rendering e dice ripuliamo un altro po' di confusione. React server component non è un replacement, quindi non rimpiazza il server side rendering. Non doveste pensarlo come un server side rendering 2.0. Invece mi piace di più pensarli a come due pezzi separati di un puzzle che si intersecano, si incastrano tra di loro perfettamente. Quindi due gusti insomma che si complementano complementano a vicenda. Abbiamo ancora bisogno del server side rendering per generare l'HTML iniziale e React server component viene costruito on top quindi sopra a questo baragdim permettendoci di omettere certi componenti dal bundle client side assicurandoci che vengono eseguiti solamente sul server. Infatti è anche possibile utilizzare il React server component senza server side rendering anche se in pratica hai migliori risultati utilizzandoli insieme. Ambienti compatibili. Tipicamente quando un nuovo ufficio di React arriva iniziamo a usarla nei nostri progetti installando insomma tutte le dipendenze di React nell'ultima versione quindi un npm install a React at latest e siamo pronti. Ma in realtà React server component non funziona così. Per quello che ho capito dice Josh React server component ha bisogno di essere integrato con un po' di altre cose che sono esterne a React per esempio un bundler un server un router e mentre sto scrivendo l'unico modo per utilizzare adesso già in produzione i React server component è con Next.js versione 13.4 o successiva utilizzando la nuova architettura app router spero che in futuro usciranno nuovi framework basati su React che inizieranno a incorporare e includere i React server component quindi mi sembra strano che una feature core di React sia disponibile solamente in un tool particolare comunque le documentazioni React docs hanno una sezione bleeding edge framework dove listano i framework che supportano React server component quindi andremo a vedere questa pagina ogni tanto per vedere se ci sono nuove opzioni che diventano disponibili e sono andato a controllare per adesso c'è di nuovo solamente Next.js con app router quindi per adesso non ci sono altri framework che supportano immagino che i framework come astro arriveranno a supportarlo presto però per adesso non ci sono ora parliamo dei client component dice Josh in questo nuovo paradigma di React server component tutti i componenti sono server components by default questo è anche un'altra cosa molto importante se non specificato diversamente nel nuovo React tutti i componenti sono di default server component sono React server component di default se vogliamo avere un client component dobbiamo fare opt-in ci dobbiamo dire esplicitamente al bundler che quello lì è un client component per farlo utilizziamo una nuova direttiva che è use client eccola qua quindi proprio una stringa use client è come quando usate la stringa use strict è una modalità per dire al compilatore come trattare quel file ecco quindi voi usate use client scrivete use client all'inizio del file e il bundle interpreterà questo componente come un componente client tradizionale insomma classico quindi la stringa use client in cima è quello che si usa per segnalare a React che questo componente o i componenti in questo file sono client component e devono essere inclusi nel bundle JS per essere rirenderizzati sul client questo potrebbe sembrare un po' strano di specificare il tipo di componente che stiamo creando ma c'è un precedente ecco lo dice subito c'è un precedente che è use script che è per lo strict mode di javascript non dobbiamo spiegare invece non dobbiamo specificare invece use server la direttiva use server perché abbiamo detto appunto che in questo paradigma tutti i componenti sono server components by default infatti use server è in realtà è una keyword che viene utilizzata ma è per le server action che è un afficio totalmente differente che va al di là degli intenti di questo blog post poi se volete ne riparleremo comunque è un'altra è un'altra questione è un altro tipo di funzionalità c'è poi un altro boxettino quali componenti dovrebbero essere client component a questo punto ecco potremmo chiederci come posso decidere se un componente dovrebbe essere un server component o un client component ecco come regole di generale se un componente può essere un server component dovrebbe essere un server component questo è il consiglio diciamo di Josh i server component risultano spesso più semplici e più facili da ragionarci e hanno anche un beneficio in performance perché siccome i server component non girano sul client il codice non è incluso nel bundle quindi uno dei benefici di React Server Component del paradigma RSC è che migliora notevolmente il TTI quello che abbiamo visto prima il page il time to interactive quindi la metrica page interactive detto questo non dovremmo fare della nostra missione sradicare quanto più possibile il client component in giro per le nostre app non dovremmo trovare non dovremmo provare a ottimizzare del minor numero di client component possibili dobbiamo ricordarci che fino adesso tutti i componenti React in qualunque in tutte le app React sono client component quindi se iniziamo e iniziate a lavorare con il React Server Component scoprirete che questo è abbastanza intuitivo alcuni dei nostri componenti hanno bisogno di lavorare sul client perché usano variabili di stato o effects e quindi a questo punto ci applicate sopra una direttiva use client su questi componenti e li utilizzate altrimenti rimangono server component ora parliamo di un concetto importante nell'architettura RSC che è quello delle boundaries dice Josh una delle prime domande che avevo mentre appunto perdevo familialità con i React Server Component era questa cosa succede quando cambiano le props per esempio supponiamo di avere un server component fatto come questo vedete questa function hitCounter con delle props hit quindi number of its eccolo qua quindi ci aspettiamo che questa proprietà hit cambi quando cambiano le prop in input al componente quindi supponiamo che all'inizio nel server side render hit equivale a 0 quindi questo componente produrrà questo markup number of its 0 naturalmente ma cosa succede quando il valore di hit cambia supponiamo che sia una variabile di stato cambi da 0 a 1 il componente hitCounter dovrebbe rirenderizzare ma non può rirenderizzare perché è un server component abbiamo detto che non rirenderizzano ma la cosa è i server component non hanno senso in isolamento dobbiamo fare uno zoom out quindi vedere l'architettura generale dell'app e considerare la struttura di questa applicazione quindi pensiamo di avere questo tree questo albero nell'app quindi vedete la root nell'app poi abbiamo header e poi abbiamo l'articolo un articolo insomma con il nostro componente hitCounter e poi discussion per la parte di commento ora se tutti questi componenti sono server component allora tutto ha senso e funziona nessuna proprietà cambierà mai perché nessun componente farà mai un rirender ma supponiamo a questo punto che article abbia una propria variabile di stato che è hits quindi per usare lo state lo stato del componente che cambia dobbiamo convertire article in un client component quindi utilizziamo useClient vedete qua e article diventa un client component quindi vedete il problema quando article rirenderizza tutti i componenti all'interno di article devono anche devono rirenderizzare a loro volta inclusi hitCounter discussion e gli altri ma se questi sono server component non possono rirenderizzare quindi questi componenti se fosse lo server component nonostante questo è un client component questi non potrebbero rirenderizzare per prevenire questa situazione impossibile naturalmente il team di react ha aggiunto una regola i client component possono solamente importare altri client component quindi la direttiva useClient significa che tutte le istanze di hitCounter e discussion devono diventare client component quindi vedete che si introduce il concetto di boundary quindi dice Josh uno dei momenti aha che ho avuto con il react server component è la realizzazione che questo nuovo paradigma riguarda la creazione di client boundaries quindi vedete quello che succede in pratica da articolo quindi da article in giù tutto quello che succede qua è che questa parte di applicazione è inclusa in un client boundary quello che è escluso dal client boundary è la root dell'app e l'header che rimangono quindi diciamo renderizzati staticamente dal server invece quando noi adottiamo aggiungiamo la direttiva useClient al componente article creiamo una client boundary tutti i componenti all'interno di questa boundary sono implicitamente convertiti in client component anche se un componente come hitCounter non ha la direttiva useClient comunque saranno hydrated quindi idratati e rirenderizzati sul client in questa situazione particolare quindi perdiamo la loro caratteristica di server component quindi non dobbiamo poi aggiungerci useClient a ogni singolo file che sta all'interno di questa boundary ma in pratica dobbiamo aggiungere solamente al top dell'hardware al componente top che utilizza client per creare una client boundary tutti quelli inclusi all'interno di questo altro componente diventeranno componenti renderizzati lato client ci sono dei workaround dice a questo quando ho imparato per la prima volta che i client component non possono renderizzare dei server component questa roba mi è apparsa abbastanza restrittiva perché dice e se io dovessi utilizzare lo stato uno state insomma uno stato in un alto livello nell'applicazione quindi a questo punto tutto quello che sta dentro la mia applicazione deve diventare un client component se devo avere uno state in una posizione molto elevata nell'applicazione però viene fuori che in molti casi ci sono dei workaround a queste limitazioni facendo un po' di refactoring quindi ristrutturando un po' la nostra applicazione quindi facciamo vedere un esempio vedete questo componente che ha use client al top quindi è un componente client ed è la home page quindi sarà ipoteticamente la root della nostra applicazione e utilizza uno stato per avere un cambiamento nel color team quindi vedete light color e dark color quindi vedete che c'è uno switcher che passa dal tema chiaro al tema scuro quindi siccome abbiamo questo switcher ad altro livello tutta l'applicazione è dinamica perché il tema applicato all'app dipende da uno stato che è stato messo nella root dell'app quindi al componente a livello più alto dell'applicazione quindi in questo setup abbiamo bisogno di utilizzare lo state di react per consentire agli utenti di cambiare tra tema chiaro e tema scuro questo deve avvenire a livello molto alto nell'applicazione perché dobbiamo applicare delle variabili css al tag body quindi per utilizzare lo stato dobbiamo rendere la home page client component e questo siccome è il top il livello top della nostra applicazione tutti gli altri componenti inclusi al suo interno compresi header e main content diventeranno implicitamente dei client component ma per fixare questo comportamento basta che noi basta insomma dobbiamo un po' rifattorizzare e anche ripensare un po' l'architettura ma dobbiamo prendere il color management quindi quello che gestisce il tema dell'app e estrarlo e metterlo in un suo proprio componente quindi spostandolo in un nuovo file quindi vedete che abbiamo un nuovo componente che è color provider .js sempre client component quindi con use client che fa quello che facevamo prima quindi aggiunge al body le sue proprietà per avere il tema tornando alla home page possiamo utilizzare questo nuovo componente in questo modo vedete che c'è il componente home page che è frappato da color provider che è il componente che switcha il nostro tema ma all'interno ha header e main content quindi siccome home page a questo punto non è più non ha più lo stato non ha più un suo stato possiamo rimuovere use client perché non usa appunto più lo stato e questo significa che header e main content che sono all'interno di home page non verranno implicitamente convertiti a client component quindi il tutto rimane server component ma quello che vi starete chiedendo anche voi aspetta un attimo dice Josh color provider che è un client component è parent di header e main content e quindi è il livello top del nostro albero giusto? ma dice quando ci riferiamo ai client boundaries non ci importa la relazione parent child home page è il componente che sta importando e renderizzando header e main content e questo significa che home page decide quali prop devono essere passate a queste componenti quindi ricordate il problema che stiamo cercando di risolvere è che i server component non possono rirenderizzare quindi a questo punto non possono ricevere dei nuovi valori per qualcuna delle proprie property con questo nuovo setup home page decide quali property deve passare a header e quali a main content e siccome home page è un server component non c'è problema questa roba qua è abbastanza cervellotica anche dopo anni di esperienza con react mi sembra che sia abbastanza confusionaria e richiede un po' di pratica per funzionare per essere un pochino più precisi dice la direttiva use client funziona a livello di file e a livello di modulo qualunque modulo importato in un client component deve essere un client component quando il bundler fa il bundle del codice segue queste regole di importazione ora guardiamo un po' sotto il cofano di questi react server component e dice Josh guardiamo un po' a low level quando utilizziamo un server component cosa viene generato davvero cosa avviene a livello di react iniziamo con una applicazione un componente react super semplice questa home page che ritorna un paragrafo p con dentro hello world classica demo di hello world per react ora nel paradigma react server component tutti i componenti sono server component by default siccome non abbiamo esplicitamente marcato questo componente come client component questo verrà renderizzato solamente sul server quindi quando visitiamo questa app nel browser riceveremo un html un documento html che assomiglierà a qualcosa come questo quindi vedete che abbiamo sempre il nostro hello world renderizzato già renderizzato perché è stato il server a renderizzarlo inoltre avremo uno script che contiene il bundle js in questo bundle non vengono inclusi i componenti i server component i react server component e poi abbiamo un altro script con qualche informazione per il virtual dom di react quindi questo vedete che è esattamente la rappresentazione di un virtual dom cioè di un virtual node del virtual dom di react vedete che type p props null non ha props children hello world è il children quindi questo è esattamente il virtual dom di react se l'avete mai visto è come react tratta il dom quindi questo questo elemento è di questo tipo ha queste property ed a questi children ecco come vengono serializzati i componenti quindi server side react prende questi componenti li serializza in questo modo li manda al browser al client ed ecco che react semplicemente se li ritrova già pronti già serializzati non deve rirenderizzarli sono pronti nel suo virtual dom dice vediamo che il nostro documento html include la UI generata dall'applicazione react con il paragrafo hello world e questo è grazie proprio ai server side rendering che non è direttamente una cosa attribuibile ai react server component come abbiamo visto sotto questo abbiamo il tag script che carica il nostro bundle js e questo bundle include le dipendenze come react e qualunque client component che viene usato nella nostra applicazione e siccome il nostro componente home page è un server component il codice di questo component non è incluso nel bundle come dicevamo infine abbiamo un secondo tag script con un po' di js in line questa struttura e questo è un pezzo molto interessante essenzialmente quello che stiamo dicendo qui è dire a react e tu so che stai ti manca il codice del componente home page ma non ti preoccupare ecco quello che ha renderizzato e questo praticamente è il virtual dome di react quindi tipicamente quando react esegue l'hydration lato client rirenderizza tutti i componenti creando una rappresentazione virtuale dell'applicazione questo è il virtual dome non può farlo per i server component perché il codice non è incluso nel bundle js quindi mandiamo il valore renderizzato e insieme a questo valore renderizzato mandiamo anche la rappresentazione virtuale di quello che era stato generato sul server quando react carica lato client riusa questa descrizione invece di rigenerarla e questo è quello che permette a color provider all'esempio color provider di funzionare sopra l'output di header e main content è passato attraverso il componente color provider dalla proprietà children color provider può renderizzare quante volte vuole ma siccome i children quindi i dati passati a color provider sono statici non hanno bisogno di essere rirenderizzati lato client questo significa che mentre il nostro bundle javascript diventa più piccolo il nostro file html diventa più grande perché naturalmente dobbiamo includere più testo nel nostro file html invece di avere le definizioni dei componenti in un file javascript abbiamo il valore di ritorno del componente messo in line all'interno di un tag script mediamente stiamo mandando meno dati sulla network ma dobbiamo ricordarci che i server component non sono totalmente free no quindi dobbiamo notare che il file html è spezzettato in chunk e viene streammato quindi che il browser può permettersi proprio di stampare di visualizzare la ui più velocemente senza dover aspettare che arrivi tutto il contenuto del tag script questo è un concetto magari un pochino più avanzato ma è come il browser tratta l'html lo scarica come stream di dati quindi non riceve tutto il file intero e poi lo parsa e lo renderizza ma riceve uno stream quindi mano a mano che arrivano chunk quindi pezzi di dati renderizza quello che arriva quindi se i pezzi di dati che stanno venendo renderizzati lato server ci mettono un po' di più ad arrivare semplicemente il browser attenderà che il resto dello stream arrivi il resto dei chunk arrivi ma i chunk precedenti quindi il resto dell'html del markup document verrà già renderizzato dice se siete curiosi di vedere la reale rappresentazione di come i server components sono serializzati e inviati attraverso il network guardate rsc dev tools che è un tool realizzato sviluppato da Alvar Lagerlof passiamo velocemente alla parte conclusiva di questo articolo che parla dei vantaggi di questo paradigma quindi i react server component è il primo modulo la prima modalità ufficiale di utilizzare codice che viene girato esclusivamente server side su react dice come ho menzionato in precedenza questo non è davvero una cosa nuova nell'ecosistema più vasto di react infatti siamo in grado di eseguire il codice server side esclusivo su next.js fin dal 2016 la grande differenza è che non abbiamo mai avuto un modo per far girare codice esclusivamente su server dentro all'interno dei nostri component il beneficio primario naturalmente sono le performance i server component non vengono inclusi nel nostro bundle javascript e questo riduce la quantità di javascript che deve essere scaricata dal browser e il numero di componenti che devono essere idratati quindi vedete questo nuovo grafico che è anche dinamico quindi vedete prima e dopo con il vecchio next.js prima dei react server component e il nuovo next.js dopo i react server component è a differenza tutto sommato trascurabile però esiste ora dice Josh questa è la cosa che è meno esaltante per me alla fine perché onestamente molte applicazioni di next.js sono già abbastanza veloci ecco quando si parla del tempo page interactive comunque se segui i principi del semantic HTML la maggior parte delle tue app dovrebbero funzionare anche prima dell'hydration di react i link possono essere cliccati possono essere appunto seguiti i form possono essere submitati gli accordi possono essere espansi e collassati utilizzando appunto i componenti corretti in HTML quindi per la maggior parte dei progetti è ok prendere un pochino di secondi per consentire a React di fare la hydration ma ecco qualcosa che trovo davvero figo non dobbiamo più fare dei compromessi tra feature e bundle size quindi per esempio molti blog tecnici richiedono degli plugin per fare syntax highlighting ad esempio in questo blog usa Prisma ecco un esempio di Prisma quindi Prisma è il plugin che gli serve proprio per fare il syntax highlighting e funziona lato client una libreria dice che fa syntax highlighting supporta tutti i linguaggi di programmazione più popolare quindi sarebbero diversi megabyte che sarebbero file troppo larghi da inserire all'interno del bundle javascript e per ottimizzare questo comportamento dobbiamo fare dei compromessi per esempio togliendo alcuni linguaggi e alcune feature che non sono mission critical quindi cosa ci sta dicendo che se noi utilizziamo un plugin che è molto largo perché ha molte opzioni anche se noi alcune di quelle opzioni non le usiamo in tutte le pagine della nostra app però i file di quel plugin entrano a far parte del bundle che la nostra app si scarica e quindi poi per esempio per fare l'highlighting di questa semplice di questa semplice righe di codice quindi con poco testo in realtà ci stiamo scaricando un plugin che ha molte più funzionalità e quindi vanno a ingrossare il nostro bundle size naturalmente possiamo fare delle ottimizzazioni togliere alcune cose togliere alcune feature che sappiamo non essere utili alla nostra app però comunque ne abbiamo molte che includiamo nel bundle se per fare un altro esempio che magari molti di voi hanno incontrato le librerie per la gestione della localizzazione o quella addirittura per la gestione del tempo dei timing delle times come la libreria come moment.js ecco queste librerie sono molto grandi perché devono necessariamente contenere un sacco di opzioni un sacco di possibilità e quindi bisogna fare un po' di fine tuning per togliere la roba che non ci serve ma alla fine viene comunque incluso nel bundle un sacco di test insomma un sacco di file che non ci interessano e vanno a pesantire il bundle ma dice poi ciò se lo supponiamo invece di fare il syntax highlighting in un server component in questo caso nessuna parte del codice di questa libreria verrà incluso nel nostro bundle.js e come risultato non dobbiamo scendere a compromessi possiamo utilizzare tutte le funzionalità che ci paiono di questo nuovo plugin e si tratta proprio dell'idea che sta alla base di Bright che è un nuovo plugin per fare syntax highlighting che è stato scritto proprio con i React server component quindi tutto questo viene fatto lato server e poi non viene incluso nel client e questo dice ecco il genere di cose che mi eccitano di più riguardo React server component le cose che erano troppo proibitive in termini di costo da includere in un bundle.js ora possono essere possono fatte girare sul client a costo zero aggiungendo proprio zero kilobyte ai nostri bundle ottenendo quindi una migliore user experience e questo non è una cosa che va soltanto sulle performance e sulla UX dopo aver lavorato con RSC per un po' riesco ad apprezzare quanto siano semplici da utilizzare i server component non dobbiamo più preoccuparci delle dipendenze delle closure delle memoization e tutte le cose più complesse che riguardano le cose che cambiano quindi le cose gli stati le cose che cambiano e i re-render in React dice poi in conclusione che siamo davvero all'inizio di questo nuovo paradigma React server component è arrivato in beta su React giusto un paio di mesi fa quindi all'inizio di quest'anno sono molto contento e molto eccitato di vedere come le cose stanno evolvendo e come evolveranno nei prossimi anni e la community sta continuando a innovare con nuove soluzioni come appunto Bright proprio facendo affidamento su questo nuovo paradigma è un bel momento un bel un momento eccitante per essere uno sviluppatore React quindi in conclusione questi erano un po' i React server component secondo Josh Comeau e io cercherò di parlarne un pochino con appunto semplificazioni cercando di creare una presentazione anche un po' intrattenente al Vox Days di Trieste il 30 maggio quindi se ci siete seguite lì poi magari verrà anche trasmesso in streaming non ho ben capito non lo so eventualmente vi linkerò la cosa adesso io farò un altro pochino di ricerche ho intenzione di creare una presentazione anche un pochino ironica giocando un po' sul parallelo tra i linguaggi server side di noi vecchi programmatori che ci ricordiamo come scrivere i template in PHP o in Rails e invece questi nuovi programmatori React che arrivano su questo nuovo paradigma gli pare tutto strano perché pare incredibile che un server renderizzi del testo che è la rappresentazione che è markup insomma anche TML e lo mandi in streaming al client ma insomma la cosa noi siamo abbastanza abituati però messo all'interno dell'ecosistema di React effettivamente può portare a un bel po' di innovazione quindi come dice Dan Abramov al momento React sta diventando un framework back-end un framework server side che è incredibile pensando a come React è nato e di queste cose qua parlerò proprio alla presentazione grazie per aver seguito anche questo videone che a questo punto sarà lunghissimo non so che diavolo di editing devo fare per renderlo umano ma insomma è servito anche a me per ripassare un po' e leggere un po' quello che poi dovrò inchiudere in presentazione grazie noi ci vediamo a un prossimo video ciao grazie a tutti